Ogni tre ore una persona è colpita da sclerosi multipla, due su tre sono donne e il 10% sono bambini. Non si conoscono le cause, ma la ricerca può trovare una cura risolutiva. Manda un sms solidale al 45520 e sostieni la ricerca sulla sclerosi multipla pediatrica. Io lo faccio. Fallo anche tu.